Buongiorno a tutti, benvenuti. Apriamo ora la conferenza stampa del Ministro Gentiloni con il Ministro degli Affari Esti della Federazione Russa, Sergei Larov. Le azioni tra l'Europa e la Russia hanno subito un trauma in seguito alla crisi ucraina, ma siamo anche consapevoli del fatto che il dialogo per quanto riguarda l'Italia non si è mai interrotto e oggi è il tempo non solo di tenere aperto il dialogo, ma di rilanciare la collaborazione e la cooperazione nel comune interesse di contrastare il terrorismo e di sviluppare a tutti i livelli i nostri rapporti bilaterali. Quindi grazie ancora, Sergei, per la tua visita. L'Italia, che è un Paese che fa parte della coalizione anti-Daesh a guida americana e che ne fa parte in modo convinto sin dall'inizio, ritiene che si tratti di esplorare le modalità per il massimo di collaborazione possibile nella battaglia contro Daesh con la Russia e cercheremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi di avere anche un ruolo attivo in questa direzione. Grazie. 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 Grazie.